Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 25 gennaio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Scorpione. La parola è d'argento, il silenzio è d'oro. Ricordate il proverbio della nonna la parola è d'argento, ma il silenzio è d'oro, soprattutto quando sul tavolo ci sono affari golosi da gestire con prudenza e abilità strategica. Il difficile è riuscirci, sotto il tiro di urano che vi rende straordinariamente impulsivi e battaglieri, oggi dimenticate la proverbiale per spicacia e anziché osservare, subillati dal sestile di Marte e di Mercurio, vi lanciate subito all'attacco. Partenza per un breve viaggio da fare rinviata per problemi personali urgenti o a causa di un malessere improvviso che scombina i vostri programmi. Il corpo, in genere, merita più attenzione, specie ora che risente di intime tensioni e di un ambiente poco sereni, batti becchi di coppia in prima linea, tra emozioni urticanti e una bollente possessività, brutto a fare sapersi costantemente tenuti d'occhio osservati e vivere sul chi va là. Regali e doni in arrivo, possono essere anche forti guadagni per fortuna improvvisa, per eredità, per introiti dovuti a vendite. Con il vostro partner troverete una collaborazione che vi permetterà di coronare il vostro sogno d'amore. Periodo in genere molto fortunato e con miglioramenti palpabili ed evidenti. Aiuti diversi e sotto diverse forme, vi sentirete molto attivi e molto energici. Ragionate con mente lucida e aperta sul da farsi in amore, state usando male il vostro tempo e le vostre armi. Se il vostro partner sembra approfittarsene di alcune situazioni, cercate di cambiarle al più presto in modo da modificare l'atteggiamento del vostro partner. Sarà più facile cambiare certe situazioni piuttosto che cambiare il partner. Oggi non disperate in amore, ma tenete il cuore aperto e, soprattutto se siete single, contate su qualche colpo di fortuna che vi concedrà una nuova conoscenza. Buone nuove in arrivo per posta o per e-mail. Persone che non sentite o vedete da tempo tornano a farsi vive. Non prendete impegni gravosi. Nell'immediato potrebbero esserci occasioni preziose per risolvere un problema della vita sentimentale che vi sta dando qualche pensiero. Oggi siate gentili con il prossimo. Disguidi al lavoro e malintesi, anche nel corso della giornata incontrerete qualche difficoltà nel concordare appuntamenti e consegne. Una giornata sicuramente poco tranquilla. Urano vi darà ottime opportunità di incontrare le persone giuste e ottenere finanziamenti, prestiti e mutui che vi occorrono sia per la casa sia per avviare un vostro progetto di lavoro. Fate attenzione solo a Marte che potrebbe mettervi fretta e farvi commettere qualche errore. Frequentate ambienti diversi dai vostri abituali. Spesso ci si fossilizza con le solite persone, con le solite situazioni e sembra che il mondo finisca. Non fatevi illusioni circa il fatto che le persone possano cambiare. Chi nasce in un modo, non può finire diversamente. Una situazione che ne esce storta difficilmente si raddrizza. Per chi teme le giornate noiose, oggi è propria una di quelle, vi sentirete abbastanza svogliati e con poche forze. Provate a riposarvi. Venere dal fidato capricorno, entrata da un giorno, è la vostra protettrice oggi. E i movimenti planetari vi predispongono oggi a una giornata estremamente soddisfacente, specie se appartenete alla prima decade dello scorpione. Serata magnifica per voi, non solo perché avete la solita riunione al club con gli appassionati di vela, montagna, natura, anche con 5 gradi sotto zero vi basta parlarne per sentirvi già in primavera, pronti a organizzare una bella escursione. Di viaggi si parla comunque, da effettuarsi nel primo weekend libero o da prenotare per la primavera, estate, caricati da Marte in se stile che vi aiuterà a concretizzare velocemente i vostri progetti, in barba a quell'imprevedibile urano che dal segno opposto già medita di scombinare i vostri piani con un cambio repentino di programma, un disaccordo, un impedimento. Salvifici nei vostri confronti i trigoni acquatici della Luna e di Nettuno, rispettivamente in cancro e in pesci, vi parlano del passato e del futuro, radici e rami che si intrecciano nel vostro campo visivo a indicarvi la via. Amore ed Eros. Aria di baruffa in casa vostra, il partner ha voglia di polemizzare e voi, nonostante la lezioncina di tolleranza, cominciate ad avere una gran voglia di rispondergli per le rime. Per quanto spiacevole, la realtà viene a galla, uno dei due è romantico, l'altro piccato e insoddisfatto, il bello è che i ruoli sono interscambiabili e non appena uno finisce di lamentarsi e l'altro di suonare il pianoforte, tutto si ribalta, senza cambiare sostanzialmente nemmeno una virgola. La Luna in cancro è l'artefice del vostro stile inconfondibile, mentre Nettuno lo è del vostro estro, della capacità di stupire. Siete cuori solitari? Non vi chiudete nella timidezza e accettate ogni invito vi venga rivolto adesso. Fatevi avanti con chi vi è interessato o, soltanto per il momento, incuriosito. Se saprete bene giocare le carte che il destino sta mettendovi ora in mano, potrete dedicarvi presto a un'unione corrisposta, appassionata, con i controfiocchi. Chi di voi invece abbia una relazione fissa, guardi in prospettiva e organizzi un prossimo viaggio, che darà modo alla storia di volare ancora più in alto e di riuscire ad andare all'unisono con il vostro partner. Lavoro e denaro? I prodromi di una nuova crisi si avvertono anche nel vostro settore, ma se avete fantasia, elasticità e capacità di adattamento, vi aggiudicate grandi opportunità che ad altri non toccano. Studi in pole position, specie per chi ama le esperienze insolite, da studenti iniziate con Erasmus, poi passate a uno stagio oltre oceano. Quali sono i vostri interessi? Tanti. E oggi le vostre passioni, gli hobby potreste seguirli, se avete un po' più di tempo libero da colmare. C'è davvero l'imbarazzo della scelta? Solo per nominarne qualcuno, il cinema, il teatro, i concerti musicali. Chi invece voglia restare in casa, potrebbe dedicarsi alla lettura di un buon libro, preferibilmente un giallo, vera croce e delizia di ogni scorpione che si rispetti. Benessere. Tenere la scena e collezionare tanti successi in una sola giornata è così eccitante che di notte scavallate nel letto, senza trovare il sonno del giusto. Aiutino dalla cromoterapia, lilla o azzurro per il pigiama e le lenzuola, ma anche musica e poesia saranno i vostri aiutanti magici, imbracciate una chitarra e scrivete una canzone. Per lei, la vostra gelosia urta la sensibilità del compagno, eviterete lo scontro frontale moderando i termini. Per lui, fastidiosi pettegolezzi vi urtano il sistema nervoso, attenti a non alimentarli, mantenete il riservo. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, nuvoloso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.